cos'è la cataratta? Beh, innanzitutto iniziamo a dire che all'interno del nostro occhio si trova una piccolissima lente delle dimensioni di una lenticchia, diciamo così, e questa lente col passare degli anni, a causa anche dell'esposizione alla luce solare continua, inizia a diventare opaca. L'opacità è estremamente variabile da persona a persona, c'è chi ha opacità piccole concentrate, alcune invece diffuse a tutto il cristallino e la cataratta fondamentalmente è questo, l'opacizzazione progressiva di questa lente che può essere anche ben tollerata dal paziente per un certo periodo di tempo, ma arriva un momento in cui questa opacizzazione è causa dei disturbi della vista che il paziente non accetta più e quindi si rivolge a noi per all'intervento di cataratta.